5, 4, 3, 2, 1 1, vai, 50 accenno sinistro accenno destro sfiora muro, 30 accenno destro, 150 e allo stop in versione sinistra stai a destra, palla pulita 80 con dosso, bravo Mauro e al cartello sinistro stai piena, 80 e chicane entra a destra chicane entra a destra 80 e accenno sinistro, giuola e accenno sinistro, 50 e sinistra 4, stai a destra sinistra 4, stai a destra in piazzale in destra 6, 50 destra 5, no interno no, in sinistra 4 10, destra 4 70 sinistra 5, meno 5, meno 100 e chicane entra a sinistra chicane entra a sinistra 20, sinistra 5, meno meno 5, meno meno qua 80, stai a destra stai a destra, subito in versione sinistra per accenno sinistro 30 e 20, in versione destra in versione destra, occhio qua e destra 5, non tagliare 5, non tagliare subito sinistra 4, 20 e stai a sinistra e destra 4, tonda veloce 4, tonda veloce 50 e stai a destra per chicane stai a destra per chicane e qua gira a sinistra 40 così Mauro destra 5 più 30 e alla zebra sinistra 6, va in canna 6, va in canna 50 e chicane entra a destra subito destra 4 80 e sinistra 4 sinistra 4 30 e in versione sinistra 30 e in versione destra e in versione sinistra e in versione destra forza Mauro e 30 e in versione sinistra dai che ci sei qua forza Mauro e in versione destra bravissimo grazie a tutti